È salito a 16 il numero delle vittime dell'attacco russo di venerdì 15 marzo a Odessa, in Ucraina. Lo ha confermato nel corso di una diretta televisiva il governatore regionale di Odessa, Alieg Khyper, aggiungendo che altre 55 persone sono state ricoverate negli ospedali locali, 10 in gravi condizioni. Colpita nel primo giorno delle elezioni presidenziali russe, la regione di confine di Bielgorod. La commissione elettorale regionale di Kherson, in Ucraina, ha riferito che i soldati ucraini hanno attaccato seggi elettorali a Kakovka e Brilievka, nelle aree illegalmente occupate dai russi per le elezioni presidenziali, iniziate venerdì 15 marzo nella federazione russa e nei territori occupati. Gli attacchi di Kiev contro la Russia non resteranno impuniti, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia di stampa TASS, aggiungendo che l'Ucraina non riuscirà a rovinare le elezioni presidenziali russe, illegali nei territori occupati in Ucraina.